Il fiume sa di vivo profuma di pesce e il verde della sua acqua ha un colore che nessun pittore è mai riuscito ad impastare sulla tela non c'è un alito di vento eppure le foglie dei pioppi lontani che picchettano il fiume danzano a milioni al suono della musica diretta da un invisibile direttore d'orchestra lontano il campanile batte le ore il diavolo ti porti Adda come sei bella di fiumi così non ne ho mai visti altri tu sei parte della mia esistenza il tuo spirito sussurra storie lontane Adda fiume che trasuda orgoglio e saggenza fiume di una terra che non ha eguali nel resto del mondo che divide due popoli la cui identità in fondo è la stessa andate a respirare l'odore del fiume quando si mischia al profumo inebriante del fieno di maggio vi assicuro che non lo dimenticherete più il diavolo ti porti Adda come sei bella l'adda e il suo parco viaggio alla scoperta dell'Adda Sud da rivolta a Castelnuovo confini naturali del tratto meridionale dell'Adda sono molti i volti che il fiume Lombardo mostra al suo osservatore più attento maestosa e affascinante l'Adda riserva spesso suggestioni inattese a chi si ferma sulle sue rive anche per pochi istanti quando placida scorre nel suo alveo naturale è invece in grado di evocare paure ancestrali quando vizzosa e irriverente decide di cambiare il proprio e l'altrui destino rompendo gli argini e rovesciandosi nei campi e nelle città questo tratto di fiume continua ad essere in ogni caso ed a tempo immemorabile il luogo privilegiato scelto da migliaia di cremonesi e di lodigiani per tessere le loro esistenze quando è nato il consorzio il consorzio parco a da sud è un insieme di comuni che è stato istituito con legge regionale numero 86 del 1983 è un gruppo di comuni un insieme di comuni che la regione Lombardia ha voluto che si mettessero assieme per tutelare il territorio in particolare il consorzio parco a da sud è formato da 35 comuni e due province la provincia di Lodi e la provincia di Cremona e i comuni sono suddivisi in 24 della provincia di Lodi e 11 della provincia di Cremona e il parco da sud si snoda su 60 km e va dal comune di rivolta d'Adda per quanto riguarda la sponda sinistra il comune di Comazzo per quanto riguarda la sponda destra e giù fino alla confluenza dell'Adda colpo nei comuni di Crota d'Adda e di Castelnuovo Boccadadda la composizione del consorzio è formata da un'assemblea formata dai 35 comuni e dalle due province e un consiglio di amministrazione con il presidente che ha il compito operativo operativo del consorzio di rivolta e i I compiti del parco sono ben definiti Si tratta, anzitutto, di conservare il patrimonio ambientale del quale noi oggi siamo i gestori temporanei con una particolare attenzione alla ricchezza e alla diversità delle specie esistenti nel territorio protetto Il parco è chiamato, poi, a studiare, valutare e adottare le pratiche ecologicamente più corrette per la valorizzazione del territorio stesso Infine, l'ENTE si impegna per potenziare ed eventualmente ricostituire la rete dei corridoi ecologici indispensabili per la sopravvivenza della flora e della fauna con particolare riguardo alle specie maggiormente minacciate Fondamentale in questa prospettiva è l'attività svolta dal parco Attraverso soprattutto le guardie ecologiche volontarie Nel sensibilizzare e nell'educare al pieno rispetto dell'ambiente nel quale viviamo Proviamo ora a scendere lungo il corso dell'Adda Da rivolta a Castelnuovo In compagnia delle guardie ecologiche volontarie I veri e propri angeli custodi Di quello straordinario patrimonio naturale Che si svela, piano piano, ai nostri occhi Cosa è possibile trovare nel parco Adda Sud? Si può trovare tutto ciò che si trova in zone di pianura ben conservate come il parco Partiamo dal fiume quindi con tratti di corso non regimato Molto belli anche da vedere, molto ricchi di fauna Ad esempio le spiagge fluviali di Bofalora Che è uno dei punti più interessanti sotto questo aspetto Poi si trovano zone boscate non di grandi dimensioni ma di grandi interesse Poi troviamo le paludi Le paludi sono il pezzo forte della natura del parco Anzi abbandonate dal fiume Zone impaludate da tempo Zone con vegetazione e fauna straordinariamente ricche E poi c'è la campagna ancora ben conservata Con filari, con qualche siepe Con corsi d'acqua, con fontanili nella parte alta del parco E nella stessa zona con dei bellissimi pratti stabili Quello che può essere facilmente osservato Perché abbiamo alcune specie interessantissime come la trota marmorata Una specie che vive solo nell'Italia settentrionale E che nel parco ha uno dei suoi punti di forza Però quella non si vede Quello che è possibile vedere è la vifauna Tutti gli uccelli che vivono nel parco Abbiamo alcune colonie di nidificazione di aironi Le garzaie con centinaia e centinaia di coppie Che nella stagione riproduttiva Fanno i loro nidi vicinissimi E poi abbiamo tutto quello che in pianura si può trovare Rapaci, rapaci notturni Passeriformi, picchi C'è veramente di tutto Credo sia un ambiente veramente da conoscere Con calma, con pazienza Perché riserva sempre le sorprese Abbiamo fatto un tentativo di reintroduzione della cicogna Con un metodo sperimentato in Svizzera con successo Abbiamo un centro cicogne Che ogni anno libera una coppia di esemplari pronti per la nidificazione La prima coppia liberata è nidificato E si sono formate coppie miste Esemplari liberati ed esemplari selvatici E adesso qualche nido di cicogna in più Completamente autonomo comincia a vedersi Quindi direi che la fase iniziale dell'esperimento Ha avuto successo E qualche cicogna in più Nei prossimi anni dovrebbe essere presente nel parco Andiamo ora a scoprire queste bellezze singolari Sciolti gli ormeggi Iniziamo il nostro viaggio lungo il fiume Inoltrandoci anzitutto tra le campagne di rivolta d'Adda Terra scelta dai galli come propria dimora L'ampia zona ridosso del fiume è stata a lungo segnata dai cambiamenti di umore dell'Adda Qui, tuttavia, in tempi recenti Ha trovato attuazione uno dei progetti più suggestivi Il parco della preistoria Un percorso alla scoperta delle forme più antiche della vita Non si può lasciare rivolta, però, senza andare a visitare una delle rarità conservate dal parco Un lembo di bosco, tra il cremonese e il milanese Noto come il Bosco della Cantacucca A valle di rivolta si entra in territorio di Spino Popolosa comunità, dalla lunga storia, conserva ancora vestigia del maniero medievale La nota architettonica più originale è costituita comunque dal Minareto La torre di Villa Zineroni Casati Seguendo il corso del fiume, ci si inoltra nei campi fra i comuni di Comazzo e di Merlino È qui che si incontra la prima sorpresa dell'Adda Una grande raccolta d'acqua, ricca di vegetazione Dove trovano facile dimora uccelli di varie specie È la lanca che il fiume si è lasciato alle spalle Mentre dal suo corso si dipana uno degli emissari artificiali più importanti del cremonese Il canale Vacchelli Poco più a valle, gli ampi gerali creati dall'Adda Sono tra quelli scelti dagli esperti delle due province di Cremona e di Lodi Per la fase più delicata del progetto Trota Marmorata La deposizione degli avannotti I piccoli di trota Negli appositi vulcani realizzati per l'occasione La storia di questo tipico predatore di fiume inizia qui In sponda destra il fiume attraversa ora le campagne di Zelo Buon Persico Non è un caso che proprio a Villa Pompeiana Sulla strada per Lodi In quel che fu l'oratorio di San Michele Il Parco Adda Sud abbia ricavato uno dei suoi due centri visite Le strutture create appositamente per avvicinare la gente Al patrimonio ambientale dell'Adda e del suo parco Non lontano da qui, poi, su una superficie di quasi 130.000 metri quadrati Ecco il Parco Ittico Paradiso La dimora ideale per pesci di piccole e grandi dimensioni Rimettendoci in barca In compagnia delle guardie ecologiche Facciamo tappa ora in due comuni Che affondano le loro radici nei tempi più antichi Cervignano e Galganiano L'Adda, nei suoi cambiamenti di umori e percorsi Ha più volte ridisegnato il suo corso a piacimento Lasciando ai posteri angoli suggestivi di incomparabile bellezza L'esempio più significativo è la riserva naturale del mortone Ricca di boschi e specie animali Entriamo a visitarla Ricca di boschi e tocnh Dall'altra parte del fiume si incontra il primo dei tre comuni lodigiani che si sviluppano in sponda sinistra Bufalora d'Adda Inizia in queste terre, ripartite fra i comuni di Montanaso, Lombardo e Dilodi un'altra delle zone più caratteristiche dell'Adda La Lanca delle due acque Il fiume sembra ripartirsi in due linee d'acqua lasciando al suo interno ampi gerali meta ogni anno, nel periodo estivo di tanti cremonesi, lodigiani e milanesi Proseguendo la nostra discesa in barca tra Montanaso e Lodi ecco svilupparsi uno degli angoli in riva al fiume più apprezzati dai visitatori il parco del bel giardino Per chi ha la fortuna di ammirarli boschi e zone uvide sono una piccola meraviglia sia col sole che con la neve All'ingresso dell'area protetta il consorzio vi ha ricavato un percorso naturalistico pensato appositamente per i non vedenti Abbiamo ritenuto di dover organizzare e realizzare questo percorso per i non vedenti in modo da creare anche per loro un momento di tranquillità in mezzo alla natura perché è sicuramente importante anche per loro passare qualche ora in mezzo alla natura e sentire i silenzi del bosco il cinguettio degli uccelli e perché no anche magari qualche profumo di sottobosco o comunque delle essenze che vi si trovano Il nostro viaggio con i volontari del parco ci porta ora al capoluogo laudense Se alla sua fondazione nel lontano 1158 Lodi sorgeva esclusivamente su un colle il Colle e Ghezzone a rispettosa distanza dal fiume e dalle sue paludi oggi la città si è appropriata dell'Adda lasciandosi attraversare per intero È la storia di tante altre città del nostro paese che, incuranti delle bizze del fiume di turno hanno pensato di adagiarsi anche sulle sponde dei corsi d'acqua cercando di fare del fiume una risorsa della città A Lodi, a fianco del parco comunale Isola Carolina ha alla sua sede il parco Adda Sud è il cuore pulsante della vita del consorzio è il cuore pulsante della città Mentre il fiume lascia il capoluogo ed entra nei confini di San Martino in strada, ha trovato attuazione un progetto ambizioso, sostenuto dalla Regione, la Foresta di Pianura. Ma riprendiamo a scendere lungo il fiume, in compagnia delle guardie. Come accennato, in sponda destra, l'Adda sfiora, quasi sfuggendoli, i territori di San Martino e di Mairago, sede quest'ultimo dell'Osservatorio Astronomico. Sull'altra sponda, ecco altre due realtà lodigiane, dalla storia molto lunga, Corte Palasio e Abbadia Cerreto. La prima affonda le sue radici nell'epoca Longobarda, della quale conserva diverse reminescenze. Nelle sue terre, l'Adda ha più volte rivisto il suo corso, modificando in maniera radicale l'ambiente circostante. L'ultima rotta, a Casellario, ha dato vita a Valle, alla Lanca di Soltarico. Abbadia, nota per la sua abbazia prima Benedettina e poi Cistercense, deve il suo secondo nome ai Cerri, i boschi di querce che in passato ricoprivano le sue terre. Di questo patrimonio oggi è rimasto ben poco. Qui, in un angolo suggestivo delle campagne fra Lodigiano e Cremasco, il parco ha ricavato il sentiero delle Libellule. Casaletto Ceredano, subito di seguito ad Abbadia, fa parte a tutti gli effetti di quel gradino geografico che nel Cremasco prende il nome di Insula Fulcheria. Passato alla fine del Cinquecento, dalla diocesi di Lodi a quella di Crema, Casaletto è celebre oggi per il santuario dedicata alla Madonna delle Fontane. Dalle sue terre si passa alla zona umida, ricca di paludi, fra Credera e Rubbiano, comunità riunite di recente in un unico comune. Nelle loro campagne si trovano i luoghi più privilegiati per la nidificazione degli Aeroni, ricomparsi stabilmente nel Lodigiano e nel Cremonese. Continuando a scendere lungo Ladda, al seguito delle guardie ecologiche, proprio al confine con l'insula Fulcheria, ecco stagliarsi Moscazzano. Chiesa, municipio e case sono state edificate sullo sbalzo morfologico a debita distanza dalle aree soggette alle piene del fiume, che se ne impadronisce sistematicamente. Tornando in sponda destra, si incontra una delle zone naturalistiche più pregiate del parco, il ramo morto dell'Adda che si snoda a Soltarico, frazione di Cavenago d'Adda e in territorio di Corte Palasio. Alla Lanca, il parco, ha dedicato anche un volume fotografico. Poco più a valle, alla Madonnina di Turano-Lodigiano, ecco invece un'altra oasi nota non solo in Lombardia, la Zerbaglia. Al suo interno, il parco, ha realizzato alcune delle sue garzaie più numerose. Il nostro viaggio, lungo il tratto meridionale dell'Adda, ci porta ora a Bertonico. E' qui che il fiume raccoglie le acque di ciò che resta del canale Muzza, ormai ridotto a colatore dopo aver dissetato le campagne nell'Odigiano. Punto nevralgico delle comunicazioni con il cremasco, dopo il crollo del ponte che lo univa a Montodine, il paese ha visto nascere il primo ponte sull'Adda senza piloni in angelo. In quel di Montodine, il serio, arrivato dal vicino bergamasco, va a congiungersi all'Adda, andando a disegnare nel territorio un angolo quanto mai ricco di varie forme di vita. Poco prima della grande ansa di Gombito, il fiume attraversa per un breve tratto anche il comune di Ripalta Arpina. In sediamento dalle origini antiche, il paese può contare anche sulle rogge Pallavicina e Borromeo, che ne fanno una delle zone più umide e ricche di biodiversità del parco. Scendendo lungo il corso del fiume, Gombito appare in tutta evidenza arroccata su un terrazzo naturale. Spicca da lontano, prima di lasciare intravedere il suo porticciolo, arricchito di recente con una zona ristoro. Se c'è un paese all'interno dei confini del parco, che più di ogni altro ha modificato il suo assetto in ragione del fiume, questo è proprio Gombito. Oggi la grande ansa, che sembra quasi far ripiegare il fiume su se stesso, ha fatto spazio a gerali immensi, che si prolungano da una sponda all'altra. Alla confluenza di due importanti vie di comunicazione, la Piacenza-Bergamo e la Lodi-Cremona, Castiglione d'Adda ha sempre avuto un ruolo non secondario nella storia della bassa lodigiana. In zona alta dominava la Valle dell'Adda con le sue fortificazioni, alcune delle quali giunte sino ai giorni nostri. Più in basso, il fiume ha lasciato in eredità al parco la Lanca della Rotta, un'altra fetta di territorio dove la natura continua ad avere il sopravvento sull'uomo, grazie alle scelte del consorzio. Ad un passo dalla cosiddetta Adda Morta, infatti, è stato costruito il primo centro visite del parco, punto di riferimento stabile per le guardie ecologiche e sede di interessanti progetti naturalistici. Tra questi, il più rilevante significativo resta il piano di reinserimento della Cicogna nella Valle dell'Adda. Proseguendo nel nostro viaggio sull'Adda, ecco spuntare all'orizzonte un altro terrazzo naturale. E' quello tra Serio e Adda scelto dalla comunità di Formigara per insediarsi ad un passo dal corso d'acqua senza subirne le bizze periodiche. in una insenatura che il fiume descrive poco più a Valle si è ricavato un suggestivo porticciolo punto di riferimento per decine e decine di appassionati dell'Adda. Non manca anche in questo caso un'area destinata al ristoro. E' invece a debita distanza dall'Adda il comune di Terranova dei Passerini. Composto da diverse comunità contribuisce per la sua parte alle vicende del parco Adda Sud. I suoi terreni sono solo lambiti dal corso del fiume facendo quasi da tramite con una delle zone più caratteristiche dell'Adda meta ogni anno di migliaia di visitatori. La tenuta del boscone della famiglia Biancardi Boschi, paludi e laghetti assieme ai tanti animali che vi risiedono fanno della tenuta uno dei luoghi privilegiati per trascorrere in serenità intere giornate immersi nel verde. L'ampia area a parco interessa i comuni di Camairago e Cavacurta in sponda destra e quello cremonese di Pizzighettone. Camairago che già condivide con Castiglione e Formigara l'Adda Morta con paesaggi di incantevole bellezza è il passaggio naturale per accedere al boscone mentre Cavacurta nel punto più alto della scarpata che accompagna il corso dell'Adda fa quasi da sentinella e guardia sull'intera zona. Il polo d'attrazione per questa parte del fiume resta comunque Pizzighettone è qui che approdano da ogni parte della Lombardia e delle regioni vicine migliaia di visitatori richiamati sia dalle possenti mura che da secoli difendono la cittadina cremonese sia dalle meraviglie dell'Adda e del Boscone ed è qui che la provincia di Cremona si appropria per un breve tratto dell'intero corso del fiume Il suo porto naturale a monte di uno degli ultimi sbarramenti del fiume ospita in particolare le motonavi del consorzio Navigare l'Adda un ente che sta cercando con successo di valorizzare in senso turistico il fiume Lombardo con apprezzate escursioni diurne e notturne Qui il Parco Adda Sud ha voluto incontrare i comuni del Lodigiano e del Cremonese per una singolare iniziativa La consegna della bandiera del patto Grazie a tutti A valle dello sbarramento di Pizzighettone, il fiume assume una fisionomia quasi uniforme. L'Adda sembra quasi attirata dal grande fiume, che, qualche chilometro più a valle, la sta attendendo. C'è ancora tempo, però, per toccare, assieme alle guardie ecologiche, altri comuni disposti lungo le due sponde. Località molto antica, anche Maleo, sorge su un terrazzo morfologico dominato da Palazzo Trecchi. Costruito appositamente a guardia della bassura dell'Adda. Assieme al palazzo è pregevole in paese Villa Trecchi, sede di manifestazioni che hanno varcato i confini provinciali. Poco più a valle c'è Corno Vecchio, comune che deve il suo nome all'antico corno con il quale si incuneava nel corso del Po. Meleti, altra località presente fin dal Medioevo, svolse un ruolo affine per diversi secoli legata a doppio filo al feudo di Maccastorna. È questo il più piccolo comune dell'Odigiano, uno dei pochi che può contare ancora su una delle roccaforti meglio conservate in Lombardia, trasformata in castello all'epoca degli scontri tra Guelfi e Ghibellini. Ma passiamo ora sull'altra sponda dell'Adda. È qui che si incontra Crotta d'Adda, paese che vanta una storia ben più longeva dei precedenti. La zona, infatti, posta fra Adda e Po, era abitata già in epoca preistorica, come confermano i resti di palafitte trovati ad un passo dalla valle dell'Adda. Oggi è sede di rievocazioni storiche in costumi d'epoca, grazie alla presenza della splendida villa di campagna della famiglia cremonese degli Stanga. Il nostro viaggio lungo il corso dell'Adda, in compagnia delle guardie ecologiche volontarie, sta ormai giungendo al termine. Dopo l'ultimo sbarramento, proprio fra Crotta e Castelluovo, il fiume si avvicina al suo sbocco conclusivo. Il grande fiume, il Po, lo attende e da Bocca d'Adda fa spazio al suo potente immissario. All'arrivo dell'Adda, il Po sembra quasi ritirarsi, lasciando per qualche tratto la scena al fiume Lombardo. Con sé porta la storia lunga ed appassionata, fatta dalle tante comunità lambite e trasformate dal suo corso. Maestoso e affascinante, bizzoso e irriverente, fino a diventare minaccioso, il fiume a Castelnuovo si fa tutt'uno con un'altra storia, altrettanto lunga ed appassionata, quella della gente del Po. Attra tentativa. Attra tentativa. Assess site. Attra tentativa. Un'altra valia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.